L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Cittadinanza attiva torna ad operare a Cava dei Tirreni. In occasione della sedicesima giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, imparare sicuri, gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore della Corte Van Vitelli a Cava dei Tirreni hanno presentato il cortometraggio Lo ha detto Facebook, realizzato durante il progetto Adolescenze competenti, condotto dalle associazioni nazionali, AICS e Cittadinanza Attiva. Nella giornata si è affrontato il tema della legalità di scuola, quale luogo sicuro nel quale i giovani possano crescere e partecipare attivamente per promuovere i valori positivi della solidarietà contro il bullismo e la discriminazione di ogni genere. Questo percorso ha reso in modo particolare protagonisti, in modo speciale, tutti i ragazzi. Guidati chiaramente in modo magistrale da alcune colleghe, Clotilde e Maria, abbiamo realizzato un percorso veramente bello. Bello perché in qualche modo ha coinvolto i ragazzi, ma anche emotivamente, nel senso che effettivamente questo ci ha fatto capire che i ragazzi ben guidati possono realizzare delle cose bellissime. Per cui noi siamo soddisfatti di questo percorso, ma nello stesso tempo vorremmo che effettivamente questa esperienza inondasse la città di Cava, ma anche l'arresto della provincia. Questo è l'obiettivo di Cittadinanza Attiva, agire molto nelle scuole, perché tutti i temi che trattiamo riguardano la vita soprattutto degli adolescenti, quindi è giusto che siano loro a prendersene carico e ad occuparsene poi nel lungo periodo. Hanno realizzato anche un cortometraggio. Ancora lo devo vedere, spero sia all'altezza delle aspettative, mi aspetto molto dai ragazzi, perché quando gli si restituiscono competenze sanno dare veramente tanto. Spesso pensiamo ai giovani come svogliati, incapaci di affrontare situazioni serie, invece quando gli si dà fiducia, gli si danno competenze, sono capaci di tirare fuori grandi cose. Comunque è un tema abbastanza forte che si vive tutti i giorni e ancora tuttora. Il messaggio è quello di sensibilizzare questa causa e cercare in qualche modo di affrontare il problema sul nascere e di conseguenza magari aiutare questi ragazzi, magari a parlarne. È stata una bella esperienza, molto formativa.